Cosa sono le zone libere? Se prendiamo la definizione della lettera, è abbastanza semplice, sono quelle dove non ci sono fascisti in realtà. Quindi da questo punto di vista si può parlare di zone libere sempre per certi versi, perché il controllo della RSI neanche è stato ipotizzabile che fosse un controllo dell'intero territorio. Grosso modo fino a quando non c'è una puntata dalla città verso le colline o verso le montagne o nel profondo delle vallate, le zone libere sono quasi tutto il territorio teoricamente occupato in realtà, perché nei tedeschi e neanche i fascisti soprattutto a partire da giugno sono in grado di controllarlo questo territorio. Quindi se noi partissimo dal presupposto di identificare le zone liberate avremmo già una certa semplificazione. Se invece parliamo di zone liberate, parliamo del risultato di un'operazione che è stata pensata, progettata e realizzata secondo alcuni scopi che poi vedremo quali possono essere, e allora il quando, quando si può parlare di zona libera, dal mio punto di vista è quando si parla di zona liberata, quando è il risultato di una scelta voluta. è anche vero che il ritiro dei presidi della GNR è in buona parte in relazione naturalmente a una progressiva capacità offensiva, a un consolidarsi delle forze partigiane. Le zone libere si determinano lontano dalle città, si determinano laddove tu hai un precario o nullo controllo del territorio da parte delle forze fasciste e un'assenza tedesca. Le zone libere finiscono quando non i fascisti che non contano più nulla, ma quando i tedeschi hanno abbastanza energie e interesse per spazzarle via e spazzarle via vuol dire partire per l'ennesima volta dai centri nevralgici dove sono riunite le forze tedesche e demolire, diciamo così, quelle che, zone franche in qualche modo, zone dove fino a quel momento li hai lasciati stare. La costituzione del CVL sostanzialmente coincide di fatto, dopo la liberazione di Roma, con l'ipotesi che entro due o tre mesi la guerra finisce. La prima fase delle zone liberate è questa qua, è quella dove tutto sommato si tratta di pensare alla trasformazione, qualcuno lo pensa e qualcuno non lo pensa affatto, ma diciamo le forze che sono più interessate a un uso dei territori liberati in funzione di un diverso rapporto con la popolazione e di una diffusione, chiamiamola pure, di massa e della lotta armata, quindi usare le zone libere come zona di reclutamento e sia come sperimentazione politica. Questo secondo me è un fenomeno abbastanza identificabile fra il giugno, il luglio e l'agosto del 44. La lunghissima fase invece che hai da Alba fino al Monferrato, la Carnia e poi la zona orientale del Friuli o la ripresa di Montefiorino, sono chiaramente figlie, sono tutte esperienze che sono figlie di un'altra fase, in parte hanno messo a frutto l'esperienza precedente, sono di nuovo certamente iscritte, questa volta in un più credibile e immediato scenario di fine della guerra, però non a caso sono le più assenti dalla memoria, perché lì diventa ancora più evidente che sono zone più libere che liberate, tutto sommato c'è un ulteriore indebolimento fascista, non sono il risultato di uno scontro vinto, dopodiché ho conquistato questa zona e adesso ci lancio dentro un progetto. È una cosa che è iscritta dentro l'andamento generale della guerra, più che dentro un progetto. Se io prendo in mano le prese di posizione, le circolari del Corpo Volontario della Libertà e del CNAI sulla cosa fare delle zone libere, la premessa è sempre, dato che la situazione militare generale sta producendo un'ipotesi di prossima liberazione, sta producendo un arretramento, un indebolimento delle forze fasciste, abbiamo il problema di zone che si aprono a un possibile nostro controllo, se ci entriamo cosa ne facciamo? Rileggere questa cosa come un preciso progetto che deve investire l'intero movimento partigiano, che lì troverà la sua maturità, secondo me è un po' un fraintendere la situazione generale. Sono sempre un po' di disagio a pensare a questa tematizzazione, se non in realtà come tentativo di investigare quello che è certamente un crocevia di problemi, ma che riguarda la storia della guerra partigiana in generale, se penso a cosa succede fra partigiani e popolazione civile, a cosa succede fra le singole formazioni partigiane coinvolte nell'amministrazione o nella gestione di una zona liberata, allora penso che quella è una grande occasione per capire livelli di politicizzazione, livelli di integrazione, livelli di consapevolezza e politica da parte del movimento partigiano e delle popolazioni che si trovano a conviversi per la prima volta in maniera così stretta e continuativa. Se la guardo da questo punto di vista mi interessa moltissimo perché è una possibilità di verifiche complessive, la storia di ogni singola zona in sé invece a me non mi appassiona. Un altro tema che secondo me è sempre abbastanza assente, che influsso sulle memorie antipartigiani lascia le conseguenze terrificanti del fatto che queste zone vengono ovviamente spazzate via. E l'altra grande questione tutto sommato che resta sempre sotto traccia ma che dal mio punto di vista è decisiva, la formulerei così, quanto le zone libere, lo studio, le ricerche sulle zone libere sono in grado di scoprire, di evidenziare dei mutamenti nei rapporti fra le varie formazioni partigiane. In qualunque situazione, da Montefiorino all'Ossola, alla Carnia, al Friuli Orientale, in ogni caso non c'è mai stato un comando unificato che funzionasse, che non fosse una pura messa in scena realizzata all'ultimo momento. Quando arrivano i tedeschi si resiste tre ore o tre giorni, ma le accuse su chi ricada la responsabilità prima di non aver fatto un vero comando unitario, il secondo di non essersi battuti bene, il terzo di aver scelto una linea difensiva più rigida, più morbida, eccetera. Il livello di contrapposizione, se questo è il momento della maturità partigiana, allora il livello di contrapposizione tra forze partigiane di vari orientamenti, che ne consegue, in che cassetto lo mettiamo? Secondo me lo studio di quelle zone è anche la dimostrazione del livello estremamente fragile di unità possibile fino allora raggiunta. Da un punto di vista di storia militare della guerra partigiana, le zone libere sono una tragedia, perché sono il momento dove diventa straordinariamente visibile e inepivocabile che tu non sei minimamente in grado di reggere il confronto con delle forze strutturate. Se si parla di utopia, si parla poi di costi che qualcuno pagherà per questa utopia, costi che poi hai pagato in termini di memoria antipartigiana o anche in termini di… se uno vuol chiedersi, ma è esistita nella storia nazionale da 44 in poi una egemonia culturale della resistenza, tra i motivi, secondo me, che vanno presi in considerazione per pensare, se si pensa come a me, che non c'è stata questa egemonia, che quel tipo di situazioni ci offrono molte occasioni per ragionare in concreto. Tutta la storia dalle zone libere, da un punto di vista militare, è un'autentica follia. Una follia che tu la capisci da una parte, con il fatto che sei una variabile, una particina dentro la guerra grossa e che a un certo punto ti capita di interpretare questa parte. Prima considerazione, la seconda, ancora più decisiva, è che si tratta di una guerra, di una lotta armata che ha delle sovradeterminazioni politiche più importanti di quelle strettamente militari. Non a caso quindi sono in prima persona i comunisti e gli azionisti che sono particolarmente interessati sia alla sperimentazione e sia all'uso propagandistico che puoi fare di queste esperienze, perché sono quelli più interessati a disegnare attraverso la lotta armata rapporti di forza e progetti sul dopoguerra. Chi è meno interessato a farlo, chi è meno interessato a usare la lotta armata come elemento di rottura e di innovazione radicale, è sostanzialmente assente da queste esperienze. Quelli che sono per le zone libere sono quelli che poi saranno per l'insurrezione. Quelli che sono assenti dalle zone libere come progettualità militare e politica sono quelli che poi l'insurrezione avrebbero fatto anche volentieri a meno che ci fosse. Da questo punto di vista potremmo anche definire le zone libere quando sono ricche di progettualità come un'anticipazione, cioè come un'insurrezione anticipata. Di fatto è anche l'idea che intanto che arrivi tu su un territorio, prima che ci arrivino gli alleati, finalmente potrei fare qualcosa che quando arriveranno loro non sarà più possibile. Teoricamente l'epurazione, ma teoricamente anche la sperimentazione di ridare in mano alla popolazione strumenti di democrazia eccetera. Rispetto a quelle circostanze storiche non era assolutamente pensabile poterlo fare realmente. Di fatto poi quante elezioni reali hai dentro questa esperienza che poi vai a chiamare persino repubbliche? Ancormeno proprio in quelle che diventano repubbliche con la R maiuscola. Io immagino che inizialmente sia stato dal punto di vista delle, chiamiamole truppe partigiane, sempre penso che sia stato un momento di ubriacante felicità, di autorealizzazione, rientri nei paesi o nelle zone che hai dovuto lasciare. Insomma hai finito di essere un latitante per certi versi, hai riconquistato. Poi naturalmente bisognerebbe vedere anche che rapporto c'è fra quelle formazioni partigiane e il posto dove arrivano, se sono formazioni che arrivano da fuori, da lontano o se sono più vicine diciamo. Però io non sono convinto che sia stato in generale una convivenza molto serena perché in realtà, come metteva spesso in luce Legnani nei suoi studi, i problemi che i comandi partigiani, nella maggior parte dei casi o i CLN insediati dai comandi partigiani, ma poi di fatto spesso la distanza è più nominalistica che altro, cioè i problemi drammatici che hanno davanti sono i problemi della sopravvivenza fisica. Devi pensare al fatto che tagliati fuori dei rapporti tradizionali montagna-pianura devi prima di tutto risolvere dei problemi immediati. Uno dei problemi massimi del rapporto tra popolazione civile e movimento partigiano è l'insistenza di un gruppo di uomini che fino a quel momento non c'era su un determinato territorio, così come la scarsità di risorse che viene accentuata dal fatto che se mi arrivano mille partigiani in più. Io ho un addensamento di popolazione nel suo complesso su dei territori normalmente abbastanza poveri e questo può far precipitare ulteriormente i rapporti fra popolazione e partigiani. È andare al governo nel momento più duro e quindi è assumersi una scommessa estremamente onerosa e molto coraggiosa naturalmente. Trovi tu il fatto che vengono meno gli organismi amministrativi normali. Fa sì che in alcune zone, per esempio, credo anche dell'Emilia, alla fine si discute se lasciare a testa dal CLN uno che è stato podestà, perché la popolazione locale ti dice questa è una brava persona, sa fare, ha sempre fatto il bene della popolazione, prima c'erano i fascisti, adesso ci sono i partigiani, però bisogna organizzare una vita civile. Comandi partigiani funzionano di fatto dal punto di riferimento e dal punto di organizzazione anche della vita civile. L'importante è come lavorano in realtà, se sono bravi, se hanno una testa politica, se sono capaci di pensare prospetticamente oppure no. La domanda potrebbe essere riformulata così, in definitiva, ne valeva la pena oppure no. Secondo me è una domanda insensata, perché se recupero il mio punto di partenza, se le zone libere sono il portato dello sviluppo della lotta armata dentro una guerra che è in corso, in qualche modo non potevi non farlo. Questo prendere, andare ad occupare degli avamposti e già che c'eri, anche provare a renderli politicamente proficui, che poi tu ci sia riuscito o no, dipende da moltissime circostanze locali, dell'intelligenza dei comandi partigiani, della maturità della popolazione del posto, delle condizioni economiche, climatiche, dalla fase della guerra nella quale sei inserito, sono infinite variabili. Che rapporto hai con la popolazione se la metti a rischio, sapendo che la tua presenza costante lì sarà come mettere un parafulmine, prima o poi i fulmini arrivano, no? E quando si arrivano i fulmini sai già che non sarai in grado di reggere, è una scommessa che si può accettare. La guerra di guerriglia si fa così, si coinvolge la popolazione civile, accada quel che accada, eccetera. Però, come dire, è un problema, rispetto a un'ottica del consenso, per esempio, è un problema non irrilevante. La zona orientale, la cosiddetta zona libera orientale, è il risultato quello sì di combattimenti asprissimi e lì i partigiani verranno accolti dall'agosto, se non ricordo male, come dei liberatori, ma perché il livello di repressione, la zona è estremamente interessante da un punto di vista delle comunicazioni strategiche e quindi lì la repressione nazista soprattutto è stata violentissima. E allora, diciamo, costituirsi di zona libera è in realtà una liberazione vera e propria da qualcosa di terrificante. E quindi qua vengono accolti come liberatori i partigiani e dopodiché scatta l'ansia di dire sì, ma se poi ve ne andate cosa ci succede? È sempre questa dannazione dell'essere fuori tempo in qualche modo e allora diventa, non c'è lo spazio per istituzioni politiche, sperimentazioni, è proprio così, è una popolazione civile che sta dentro una guerra che gli passa addosso, dalla quale vengono parzialmente liberati e nella quale vi precipitano. Una zona libera che nasce per un accordo fatto con i tedeschi, lasciateci stare e noi vi lasciamo stare, è una zona libera? Per certi versi sì, indubbiamente, i partigiani circolano tranquillamente, però anche questo è un problema che andrebbe affrontato. Se la zona libera serva a rinforzare il movimento partigiano, cioè a fare nuove reclute, a pensare nuove operazioni, se invece serva a una campagna elettorale anticipata rispetto alla popolazione locale o se serva a limitare i danni della violenza. Da questo punto di vista le zone franche sono più efficaci delle zone liberate, addirittura quando si costituiscono le repubbliche. E resta sempre la domanda alla quale ognuno può rispondere in modo diverso. Questa cosa ha favorito il rapporto con la popolazione o no? Dipenderà da quanto dura, se poi ci sarà liberazione invece se arriveranno i tedeschi e i cosacchi. se siamo riusciti mentre eravamo qua a far vedere che siamo in grado di gestire l'amministrazione oppure no, o siamo stati in grado di passare il nostro potere e di investire qualcuno che era degno di esercitarlo, che aveva voglia di farlo, oppure non abbiamo trovato nessuno, abbiamo dovuto continuare noi. Io credo che per nessuna di queste domande ci sia una risposta univoca e credo che per parecchie di queste abbiamo perso troppo tempo. dove il fatto di essersi precocemente e anche solo provvisoriamente liberati dal controllo nazifascista, se lì tutto questo ha permesso forme di autogoverno, di promozione, diciamo di una ripresa della parola dal basso, chiamiamola così, allora nonostante i costi, la repressione eccetera, molto probabilmente resta anche, addirittura resta il momento alto della vicenda. Caso per caso troveremo sacche di memoria antipartigiana fortissima e troveremo la convivenza di queste invece con un fondato orgoglio. Il rapporto momento partigiano-popolazione civile è stato in realtà il momento in cui comunque di crescita, di consapevolezza, di capacità, di autodecisione, di autodeterminazione, un riscatto di dignità. Io però credo che se guardiamo anche in termini così di storia politica successiva, non c'è nessun rapporto automatico fra presenza e nemmeno potenza, diciamo così, per i termini militari, i controlli di pezzi di territorio partigiana e l'esito politico, sono due cose abbastanza, che non coincidono necessariamente. L'Ossola, se non fosse vicina, se non fosse al confine con la Svizzera, o non si sarebbe dato, o si sarebbe dato in modo così completamente diverso. Non dico da un punto di vista strettamente militare o nelle dinamiche con le quali si arriva alla creazione di questa zona libera. Ma non c'è nessun dubbio, dal mio punto di vista, che la sua rappresentatività deriva da questa prossimità, perché il fatto di avere sul posto i rappresentanti della stampa internazionale e la capacità quindi di farne immediatamente una cassa di risonanza, di una guerra di liberazione in corso che addirittura è capace di produrre istituzioni autonome, tutto ciò è strettamente in relazione al fatto che si prende il trenino e si viene giù. L'altra cosa decisiva rispetto al confine è la possibilità di mandare via migliaia di persone quando le cose si mettono male e la possibilità di ricevere aiuti in termini alimentari, per esempio. È decisivo anche perché il rientro dalla Svizzera di eminenti antifascisti che stavano in Svizzera, di uomini politicamente autorevoli, formati, che godono di relazioni nazionali e internazionali, che sono dei politici a tutti gli effetti, fa sì che lì tu abbia quella che per definizione diventa l'unica cosa che tu puoi scrivere Repubblica con la R maiuscola perché legifera, perché guarda al futuro come Mazzini quando stava a Roma nel 1948, eccetera. Se la vuoi usare come esempio della straordinaria capacità autopromozionale di alcuni organismi e di alcune menti lucide, è perfetta. La popolazione dell'ossola stesso, gli abitanti di Domodossola, dentro questa cosa, c'entrano davvero poco. L'ossola è una straordinaria verifica da una parte della capacità progettuale della giunta, ma pensiamo che questa giunta viene insediata da un comando partigiano e sarà compito della giunta inventare di CLN che che non sono mai esistiti fino a quel momento. Che tipo di maturità? Non è che lì accade questa cosa perché la popolazione aveva già un'altra maturità politica. Perché diventa famosa? Perché viene continuamente recuperata come l'anticipazione della Costituzione? Perché lì hanno fatto un progetto di riforma scolastica, hanno pensato come andavano riscritti i libri di storia. Voglio dire, sì, è certamente legiferare il cospetto del futuro. Non ha nulla a che vedere con il fatto che lì ci fosse una maturità del movimento partigiano però. Perché da questo punto di vista tutto ciò che sappiamo, dalle relazioni che manda il CLNAI, la missione che viene spedita nell'osso, un rapporto che è terribile per certi versi. Dice, qua ci sono cinque comandi partigiani, le requisizioni di benzina e di macchine sono fatte in maniera del tutto. Ci sono cinque polizie partigiane, non riusciamo a metterli d'accordo manco su questo. Gli ordini della giunta vengono disattesi. Quindi che maturità politica c'è? C'è la maturità e la brillantezza intellettuale di quelli che costituiscono la giunta. Per cui se lì abbiamo una donna che allora dice, sai, è un punto avanzato della presenza delle donne della resistenza. Se hai un'abolizione della pena di morte in Carnia, lì la scuola, dall'altra parte un'altra cosa, fai un assemblaggio di tutte queste cose che dimostrano la maturità della resistenza. Sì, certamente dimostrano la maturità di un ceto politico che riesce a interpretare e a rilanciare alla grande degli ideali che verranno poi raccolti. Che questo sia rappresentativo del livello di capacità di elaborazione politica o soprattutto di rapporto con le popolazioni da parte del movimento partigiano, invece a me continuano a convincere minimamente. Se guardiamo l'ossola che teoricamente è il punto più maturo, lì vediamo che il rapporto con la popolazione è il più assente. In Carnia, casomai, abbiamo invece, però in carne si recuperano cose che nell'ossola non esistono minimamente. In ossola, casomai, una storia del movimento operaio, da recuperare in carne, invece ha le tradizioni di autogoverno. E però diventa estremamente interessante vedere che lì, come dire, non vai a nuove elezioni, non hai nessuna idea progressiva. Appena, diciamo, hai abolito il controllo fascista, le nuove istituzioni saranno basate sul recupero delle tradizioni locali che precedevano il regime fascista. Hai un meraviglioso ritorno all'indietro, per cui capi famiglia che diventano, diciamo così, i titolari di fatto, è una forma di democrazia esclusiva e maschile, che si basa sul restaurare antiche tradizioni, in qualche modo. E queste antiche tradizioni hanno tradizioni di autogoverno, di responsabilità, dalla gestione dei boschi a quella dei pascoli. straordinario esempio di gente che non sta scrivendo la Costituzione italiana, sta recuperando un modello di vita un po' più decentemente civile di quello che gli aveva imposto il regime fascista, che aveva cercato di demolire le tradizioni locali. Se volessimo ottenerci appunto alla definizione di zona libere come risultato di un fatto che hai sconfitto, che hai spinto fuori dai tuoi confini, dai confini di una comunità, dai confini di un territorio, le forze di occupazione, liberando quindi anche le possibilità di nominare o di far funzionare la luce del sole, CLN. Il problema è che esiste o non esiste pubblicamente e visibilmente una vita politica. Se nella bassa modenese abbiamo un livello di partecipazione di massa alle SA, se la Walter Tabacchi ha in realtà un tale radicamento in tutti i suoi distaccamenti, che non dico che controlla tutto il territorio, ma è capace di opporsi militarmente, di resistere alle rappresaglie e di rilanciare senza perdere consenso e continuando anzi ad accumularne, però lì si combatte. C'è un'altissima capacità di coinvolgimento e di adesione di massa, in questo caso si può dire, alla lotta armata. Quindi non c'è un territorio liberato e neanche libero dal mio punto di vista, ma c'è una situazione dove il livello di adesione di massa alla lotta armata è straordinario nella media nazionale. una resistenza che parte molto più tardi che in altre zone e che si afferma proprio a partire comunque da una specificità di rapporti con il tessuto economico e con la composizione sociale di quella zona che è del tutto eccezionale nel panorama nazionale. Sulla 65esima ci sono molti esempi di una politica di estrema, lungimirante attenzione ai rapporti con la popolazione, per cui la lotta agli ammassi, le requisizioni e la distribuzione mirata di risorse, di carne o che so io, alla popolazione a seconda anche dei bisogni. È una cosa che è possibile se tu hai un rapporto organico con quel territorio. È possibile se quelli che stanno facendo i gappisti in realtà non sono arrivati da lontano, ma sono lì, sono l'espressione di una società che localmente si arma e si difende. In qualche modo è questa un po' la differenza radicale. Gli emiliani che sono andati a inventare la lotta armata in Veneto a partire da Longarone avranno sempre dei problemi, sono dei comunisti in una terra che non è la loro, avranno un grande fascino sui giovani più combattivi, ma quando provano a spostarsi per esempio verso il Trentino ogni contadino che li vede va a chiamare i tedeschi. Sono arrivati i forestieri, i requisitori, quelli che mi mangiano addosso e per di più che mi attirano. Non hanno niente a che vedere con quel territorio, se non da un punto di vista ideale e ideologico, ma se l'ideologia e la cultura politica è scarsamente diffusa o nulla, o addirittura reazionaria e fascista, è difficile avere un buon rapporto. Quindi la grande specificità è che lì tu hai i gapisti noti a tutti e che sono a casa loro. Mi pare che anche nel Ravennate non ci sia una situazione di massificazione, di adesione, perché la storia della Gordini è altrettanto impressionante come quella della Walter Tabacchi. Casomai c'è da chiedersi perché Modena e Ravenna, che non sono le città più importanti dell'Emilia Romagna, hanno in realtà questa, a partire da organizzazioni, da comando militare che parte da lì, hanno una capacità di massificazione, di radicamento. Le fonti, insomma, ci sono le fonti istituzionali, dentro gli atti del Corpo Volontario della Libertà, il Comando Generale, e dentro il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, tu hai pochissimo. E puoi decidere che questa è una mancanza di fonti, puoi anche decidere che però è già un bel indizio di quanto abbia pesato effettivamente all'interno delle istituzioni della Resistenza questo progetto che poi sembra, si viene enfatizzato come se fosse stato il cuore di una grande iniziativa. Comunque c'è ancora una sottoutilizzazione incredibile di cose vecchie, sempre degli anni 70 come le relazioni delle Garibaldi, già le cose che ci sono sull'Emilia, sulle zone libere delle vallate parmigiane e piacentine, non rientravano nella storiografia che si era consolidata che è fatta anche dopo. E c'è perché, perché va in contrasto con una memoria che è stata ufficializzata e che diventa in qualche modo intangibile. E secondo me uno dei motivi per cui le zone libere, specialmente quando vengono trasformate con un gioco di prestigio in Repubbliche, uno dei motivi per cui non sono state studiate è perché se ci vai dentro davvero scopri che in realtà è lì che vengono fuori i veri limiti, è lì che viene fuori l'analfabetismo politico di gran parte della popolazione e anche l'estrema frammentarietà delle forze partigiane. Grazie a tutti.